libro quarto capitolo 5 il conte di rising up lettura di damiano mostacci il conte di rising up pur essendo di gran lunga il personaggio più importante di shorbai era modestamente alloggiato nella casa di un semplice gentiluomo alla periferia della città sarebbero però bastati la presenza di armati all'ingresso e landi rivieni di messaggeri a cavallo per rivelare che in essa risiedeva temporaneamente un grande signore fu per mancanza di spazio che dick senza legge vennero rinchiusi nella medesima stanza avete parlato bene master richard disse il bandito avete parlato come meglio non si sarebbe potuto e io per quanto mi riguarda ve ne ringrazio cordialmente qui siamo in buone mani saremo giudicati secondo giustizia e decorosamente impiccati questa sera stessa da un'ora qualsiasi allo stesso albero ed è proprio quel che temo povero amico mio rispose dick tuttavia ribatte senza legge una corda al nostro arco ce l'abbiamo ancora di uomini come ellis duckworth ce n'è uno su diecimila ellis duckworth vi tiene nel suo cuore sia per amor vostro sia per amore di vostro padre e sapendovi innocente della morte di lord shorbai muoverà cielo e terra per togliervi dagli impicci può essere ma può non essere rispose dick in fondo cosa può fare ellis non ha che un pugno d'uomini ahimè se oggi fosse domani se potessi trovarmi a un certo appuntamento un'ora prima del mezzodì tutto credo sarebbe diverso ma così non c'è niente da fare e allora concluse senza legge voi sosterrete la mia innocenza io sosterò la vostra tutte e due con fermezza non servirà niente ma perlomeno se dovrò essere impiccato non lo sarò senza essermi difeso ciò detto lasciando dick alle sue riflessioni il vecchio briccone si accovacciò in un angolo si tirò il cappuccio fratesco sulla faccia e si dispose a dormire la sua lunga vita di sacrificio e di avventura lo aveva reso così tetragono l'apprensione che poco dopo ronfava sonoramente era già trascorso parecchio tempo dal mezzodì e il giorno volgeva verso la fine quando vennero a prendere dick per condurlo al piano di sopra in un salotto ben riscaldato dove il conte di risingham lo aspettava guardando il fuoco all'entrare del prigioniero il conte sollevò gli occhi signore disse conoscevo vostro padre un uomo d'onore il che mi induce alla benevolenza non posso tuttavia nascondervi che gravi fatti pesano su voi voi vi siete associato con ladri e assassini avete e le prove son chiare turbato la pace del re su di voi grava il sospetto che vi siate impadronito piratescamente d'una nave vi hanno trovato travestito nella casa del vostro nemico e la sera stessa in quella casa un uomo è stato ucciso consentitemi subito my lord lo interruppe dick di dichiararmi colpevole di quest'ultimo fatto quell'individuo quel fessura l'ho ucciso io e la prova soggiunse frugandosi in petto è questa lettera che io trovai nella sua borsa lord risingham prese la lettera l'aprì la less una prima volta poi una seconda l'avete letta chiese l'ho letta rispose dick siete per york o per lancaster chiese il conte my lord disse dick non molto tempo fa mi è stata posta la stessa domanda e io non sapevo che risposta dare ma diedi una risposta e non la modificherò ora my lord sono per york il conte approvò con un cenno del capo onesta risposta disse ma allora perché consegnarmi questa lettera ma signore esclamò dick non sono dunque d'accordo l'anchester e york contro tutti i traditori vorrei che lo fossero giovane signore rispose il conte a ogni modo approvo le vostre parole vedo che in voi c'è più giovinezza che colpa e se ser daniel non fosse un così importante alleato del mio partito sarei quasi tentato di sposare la vostra causa infatti ho assunto informazioni e sembra che siate stato trattato molto duramente il che vi scusa in parte ma vedete signore prima ad ogni altra cosa io sono un capo al servizio della regina e sebbene io sia per natura un uomo giusto o perlomeno uno che si crede tale e addirittura incline a eccedere in clemenza devo regolare i miei atti secondo l'interesse della mia parte e pur di non perdere ser daniel farei non so che cosa my lord disse dick mi giudicherete certo troppo audace se vi chiedo di ascoltare il mio consiglio ma ditemi contate davvero sulla lealtà di ser daniel penso che abbia cambiato bandiera troppe e troppe volte questo è il costume inglese che altro potete sperare rispose il conte ma verso il cavaliere di tanstol non siete giusto perché in fatto di lealtà e considerando quanto poco essa valga agli occhi dell'odierna generazione devo dire che negli ultimi tempi egli è stato nobilmente leale verso noi lancaster non si è lasciato scuotere neppure dalle recenti disgraziate vicende vogliate allora disse dick dare uno sguardo a questa lettera forse potrebbe farvi mutare opinione egli tese la lettera indirizzata da ser daniel a lord wesley dale l'effetto della lettera sul conte fu istantaneo e si compresse su sé medesimo come un leone inferocito prima di scattare e con un gesto improvviso portò la mano alla daga avete letto anche questo chiese anche questo rispose dick e sono le vostre proprietà che egli offre a lord wesley dale sono le mie proprietà sì dite bene ripete il conte questa lettera mi fa vostro debitore mi avete rivelato un pericolo nascosto sono i vostri ordini master shilton non mi troverete certo né avaro né lento nella gratitudine per cominciare york o lancaster che importa vi restituisco la libertà andate nel nome di maria ma giudicate giusto che io trattenga il vostro senza legge e che lo faccia impiccare il delitto fu compiuto davanti agli occhi di tutti e davanti agli occhi di tutti dovrà essere fatta giustizia mio signore disse dick la prima delle preghiere che mi avete autorizzato a rivolgervi è che anche lui si è risparmiato è un vecchio furfante già da tempo condannato disse il conte un ladro e un vagabondo sono vent'anni che la forca lo aspetta che ci vada per un motivo per un altro oggi e domani fa molta differenza shilton ma se egli è qui mio signore lo è per amor mio rispose dick e sarei vigliacco ingrato se lo abbandonassi master shilton siete fastidioso rispose il conte con voce severa non è il modo giusto per vivere bene in questo mondo tuttavia anche per liberarmi della vostra insistenza vi darò ancora una volta soddisfazione andatevene dunque andatevene insieme ma con prudenza e presto via da shorbai perché il vostro ser daniel che dio lo confonda ha sete e quanta del vostro sangue my lord concedete che in questo momento vi esprima la mia gratitudine a parole confidando di potervele esprimere con i fatti disse dick e voltandosi uscì dalla stanza grazie per l'ascolto se il racconto ti è piaciuto per favore metti un like per sostenere il canale e se sei già iscritto attiva la campanellina e seguimi anche sulla mia pagina instagram per non perdere le prossime uscite